Forbici e coltelli. Qualche anno dopo mi sono trovato a fare un'indagine per conto della provincia di Sernia, nel paese di Frosolone, l'unico tra i poli industriali delle aree interne molisane che ha mantenuto le caratteristiche di un paese. La lavorazione dei metalli nell'area di Frosolone è un'attività molto antica che risale almeno all'età Longobarda. Questo piccolo centro di meno di 3500 abitanti, che fino all'inizio del Novecento era la seconda città del Molise dopo Campobasso, rappresenta un caso molto originale di concentrazione di attività produttive legate alla tradizione dei ferri taglienti, coltelli, forbici, ma non solo. Emilio, uno storico del paese, mi racconta che già nel Settecento poche famiglie locali possedevano un patrimonio di bestiame che si avvicinava ai 40.000 capi, un quarto dei quali di proprietà di una sola famiglia e rappresentava per i produttori di coltelli e forbici un mercato locale forse non ricco ma che contribuiva a mantenere costante la domanda. Le stesse famiglie che si erano nel frattempo legate alla corona del re di Napoli, alla fine dell'Ottocento, costruirono una piccola centrale idroelettrica sul vicino Fiume Trigno che, oltre a fornire il paese di illuminazione pubblica, uno dei primi del Regno dei Borboni, alimentava le attività di un lanificio meccanizzato e di un pastificio con mulino elettrico, nonché le prime macchine per la forgiatura e la molatura dell'acciaio. Infine, un altro elemento che viene addotto per motivare l'originalità del paese nel panorama molisano è la presenza, sin dalla metà del Settecento, di una scuola secondaria superiore ad accesso gratuito, caso unico nel Molise fino all'unificazione nazionale, e che faceva del paese un polo di attrazione per i pochi giovani destinati al proseguio degli studi dell'Alto Molise. L'evoluzione del sistema produttivo dei ferri taglienti conosce due fasi di svolta nell'evo moderno, entrambe innescate da interventi di origine pubblica. A metà del Settecento, per volontà del Regno di Napoli, si attua una riconversione del sistema, fino ad allora orientato alla produzione di armi e agli oggetti di uso domestico e connessi alla pastorizia, quindi coltelli dalla lama a scatto e forbici di vario genere. Nel frattempo i coltelli di Frosolone raggiungono la fama internazionale, anche se la produzione rimane dispersa fra un gran numero di botteghe, le condizioni di vita degli artigiani rimangono misere. Il secondo è legato alla cosiddetta legge Giulitti del 1908, che per motivi di ordine pubblico limita la lunghezza delle lame appuntite a 4 cm. Il provvedimento innesca una crisi gravissima nell'intero settore di tutto il paese. Alcuni centri di produzione rinomati come Scarperia in Toscana e Pattada in Sardegna cesseranno quasi completamente le attività. I produttori si organizzano in una cooperativa, ma per Frosolone comincia una fase di decadenza che dura fino agli anni del secondo dopoguerra. L'immigrazione diventa di massa e colpisce soprattutto il settore dei coltellinai. Delle oltre 100 botteghe presenti in paese alla fine dell'Ottocento, vent'anni dopo ne troviamo non più di 20. In una prima fase si dirigono verso gli Stati Uniti, finendo il più delle volte a lavorare nelle miniere dell'Ohio o in West Virginia. Ai bordi del centro storico fortificato, affacciato sulla valle, c'è un blocco di pietra calcarea sorbontato da un piccone. Il ricordo del disastro della miniera del Mononga, in cui nel 1907 morirono almeno 360 persone. Una trentina di questi erano di Frosolone. In altri casi le cose andarono diversamente. E della famiglia Miranda, originaria del paese, l'Imperial Knife, per molti anni primo produttore di coltelli da cucina degli Stati Uniti. Oggi multinazionale del settore con stabilimenti in tre continenti. Infine, nel dopoguerra, la definitiva crisi del sistema tratturale e della pastorizia allontana i mercati di sbocco dei prodotti, fino allora sostenuti dalla domanda interna costante. Una seconda fase di migrazione, verso i destini nazionali questa volta, coincide con una fase di conoscenza dei mercati, soprattutto di Roma e Napoli. Un'esplorazione che diventa letteraria nei racconti degli uomini anziani che l'hanno vissuta. Viaggi in autobus che si trasformano in epopee, nelle quali si scopre per la prima volta la città, con in spalla uno zaino pieno di forbici e coltelli. Si imparano i trucchi per aggirare i grossisti per arrivare ai dettaglianti, si va nelle case chiuse e si ritorna, infine, al paese con l'esperienza del mondo e il denaro in tasca. Sono soprattutto i forbiciai quelli che mostrano più intraprendenza. E già dalla metà degli anni Sessanta una famiglia locale, oggi il marchio più famoso di Frosolone, costruisce il primo capannone industriale fuori dal centro abitato. Negli anni Settanta prosegue l'erosione del modello produttivo tradizionale incarnato dalla cooperativa. Nascono nuove imprese, alcune delle quali prenderanno la strada della commercializzazione in proprio. Altre, non disponendo di competenze e di capitali iniziali, optano per la produzione in controtersi per le imprese leader locali. Tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta si ha una spinta forte in direzione di nuovi prodotti. Si rinnova il parcomacchine e si cominciano a produrre lame fisse, soprattutto coltelli da macelleria, su semilavorati acquistati da produttori dell'Estremo Oriente, in particolare in Pakistan, Cina e Taiwan. Dopo un primo momento in cui è sembrato che la pandemia avesse avvicinato le persone, oggi i dati economici sembrano indicare che le ha allontanate ancora di più. Il Covid, la crisi del trasporto merci, i prezzi dei carburanti determinati dalla guerra in Ucraina hanno fatto saltare qui come altrove le catene mondiali delle subforniture. La globalizzazione delle merci sembra uno scenario finito. In qualche maniera le imprese locali si stanno attrezzando per accorciare la filiera, riattivando la capacità produttiva locale dispersa. È una scommessa di cui gli esiti sono al di là da venire.